L'ex latitante Matteo Messina Denaro non si è presentato questa mattina in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, dove si trova detenuto al 41 bis, nell'aula bunker di Caltanissetta, dove si sta svolgendo il processo di appello in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. C'era attesa questa mattina all'interno dell'aula bunker dove si sta celebrando il processo d'appello a Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e condannato all'ergastolo in primo grado. Sarebbe stata la prima volta in un'aula giudiziaria per l'ex latitante arrestato lunedì scorso a Palermo. Il collegamento video con il carcere dell'Aquila, dove Messina Denaro è detenuto, era stato attivato ma l'imputato ha rinunciato. L'udienza è stata rinviata al 9 marzo per consentire al difensore di essere presente. Lo ha deciso il presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta, Maria Carmela Giannazzo. Messina Denaro ha scelto come avvocato la nipote Lorenza Guttadauro. «Speriamo tutti che decida di collaborare e depositario di conoscenze sulla stagione stragista che ancora oggi sono sconosciute da altri collaboratori», lo ha dichiarato il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, come riportato dall'agenzia ANSA al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro come mandante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio che si celebra davanti la Corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta. Continuano le indagini sulla cattura con la procura di Palermo che ha posto sotto sequestro la casa da tempo disabitata della madre di Andrea Bonafede, l'uomo sotto la cui identità si copriva Messina Denaro durante la latitanza. L'abitazione si trova all'angolo tra Via Marsala e Via Cusmano a Campobello di Mazzara. Intanto l'autista dell'ex latitante Giovanni Luppino ha dichiarato di non sapere che fosse Messina Denaro perché solo un pazzo, ha dichiarato, avrebbe potuto accompagnarlo sapendo che si trattava del boss. Infine l'avvocato del dottor Tumbarello, il medico che ha prescritto le ricette mediche ad Andrea Bonafede, il nome falso dietro cui si nascondeva Matteo Messina Denaro, ha detto che il suo assistito chiarirà tutto quando sarà interrogato dagli inquirenti.